possibilità alla parte statunitense di depositare nelle prossime tre settimane, quindi entro il 16 aprile, delle rassicurazioni inerenti a questi aspetti. Dal 16 aprile al 20 maggio, giorno dell'udienza, la difesa di Assange potrà ovviamente ricorrere e l'udienza prossima sarà quasi sicuramente stata fissata per il 20 maggio, quindi dopo stravolgimenti per il 20 maggio ci sarà l'udienza. Perché essere qui oggi? Essere qui oggi significa tenere alta l'attenzione su questo caso. Purtroppo il tempo ci ha tagliato le gambe, io sono sicuro che se non ci fossero stati questi nuvoli, questa pioggia, ne abbiamo stati incenziati persone. Ah beh, meglio pochi ma buoni. Il nostro compito oggi è far vedere che c'è una a Milano.